Ciao e bentornato Oggi volevo farti vedere come si può cambiare l'immagine del profilo sul nostro Telegram Nulla di più semplice, questo procedimento vale sia per iPhone che per Android E vediamo semplicemente come si può fare Allora, come prima cosa ci dirigiamo sul nostro Telegram e clicchiamo in basso su Impostazioni Una volta su Impostazioni, clicchiamo sopra al nostro avatar in alto e clicchiamo su Modifica Una volta su Modifica, che cosa ci dice? Ci dice Imposta nuova foto o video Clicchiamoci sopra e vediamo qui in basso che si aprirà questa voce Dove noi possiamo andare a cliccare su o apri galleria E quindi andare a scegliere quella che può essere un'immagine della nostra galleria Oppure ricerca per web Possiamo andare a ricercare una qualsiasi tipo di immagine sopra al nostro internet Una volta selezionata l'immagine, si ripresenterà sopra al nostro avatar di Telegram E quindi avere così la nostra immagine del profilo In questa stessa impostazione, in questa nostra stessa pagina Possiamo andare a selezionare anche quello che può essere il nome che noi vogliamo far uscire Con un eventuale anche cognome Quella che può essere una nostra biografia, quindi una nostra didascaria eccetera Poi troveremo quello che può essere il nostro pool, il nostro numero E soprattutto quello che può essere il nostro username Che possiamo utilizzare sopra a Telegram, quindi con la chiocciolina Spero che questo video ti sia stato utile Se ti fa piacere iscriviti al canale, metti mi piace con la campanellina E ci vediamo al prossimo video Ciao!